Sicuramente siamo molto dispiaciuti per la situazione, per quello che viene fuori, per il nome della nostra città e dell'amministrazione tutta. Dall'altro lato bisogna essere severi, essere duri e far rispettare le regole. Ci sono delle norme, noi eseguiremo quello che le norme prescrivono. L'amministrazione dal 2014 dà indicazioni, dà direttive con una delibera la 103 del settembre del 2014 e chiaramente i dirigenti devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e sulla presenza. Capisco che non sia facile su 600 dipendenti, soprattutto quando si è trovata una situazione con un certo numero di orari flessibili più della metà.